Sostenere la ripartenza degli spettacoli dal vivo, quale segno di rilancio culturale, aggregativo, sociale e turistico dopo la crisi pandemica. È l'obiettivo del fondo Arti dal Vivo, istituito lo scorso 16 dicembre da Fondazione Comunitaria dell'Ecchese, i comuni soci di Lario Reti Holding e da Celle Energie, e che oggi vede i primi frutti grazie al primo bando che si è chiuso il 15 marzo. Questo bando è come se desse una speranza in più, ma non qualcosa così di sentimentale, ma di reale, perché il linguaggio della musica, dell'arte, del teatro è un linguaggio importante. Mi viene in mente tutto l'aspetto degli intellettuali, degli scrittori, di chi legge il nostro tempo o che ha letto il tempo passato e che diventa un futuro specialmente per i nostri giovani. 53 i progetti che hanno inviato la loro richiesta per partecipare al bando, 44 quelli approvati per oltre 200 iniziative spalmate sul territorio della provincia di Lecco e un ammontare complessivo di 688 mila euro. Abbiamo messo in atto un sistema distributivo che andasse a premiare sicuramente i progetti sovraterritoriali con il coinvolgimento e la valorizzazione anche dei luoghi culturali e artistici del nostro territorio e anche una premialità verso le associazioni giovanili o verso quei progetti di arte dal vivo destinati prevalentemente ad un pubblico giovanile. All'interno di questo compaiono così delle nuove realtà neonate, così come anche le organizzazioni più strutturate. Questo numero, le 200 iniziative che poi alla fine verranno realizzate grazie ai fondi messi a disposizione, sono un numero che dimostra la vitalità del territorio lecchese, ma dimostra anche la voglia di tornare a vivere, di tornare a ritrovarsi, di tornare a far cultura. E sono iniziative che si distribuiscono un po' su tutto il territorio in maniera uniforme, quindi non interessano soltanto le grandi città. Il Fondo Arti dal Vivo ha un valore iniziale di 240 mila euro per il biennio 2022-2023, con un budget disponibile per questo primo bando, inizialmente quantificato in 90 mila euro. A seguito dell'elevato numero di richieste prevenute, il budget è stato però incrementato con ulteriori 90 mila euro, portando così la dotazione complessiva a 330 mila euro. Il senso del raddoppio del budget disponibile per cercare proprio di essere la ripartenza, quindi dare un mano a tante associazioni a ripartire o a partire da nuovo. Dopodiché l'obiettivo sarà anche quello di cercare un po' di autonomia sulle iniziative culturali sul territorio. perché di questo comunque abbiamo bisogno.